Whatever. Colbach è accompagnatrice. In coda alla fila. C'è un errore, ci hanno assicurato che siamo in lista. Però non ci siete. In coda alla fila. No, lascia ripassare, sono con me. Potevi dirlo prima, Tim. Se sono con te, se vogliono accomodarsi. Grazie. La mia adorata. Allora, sarebbe lui il tuo amico? Ivan Colbach. Suo padre è quel Colbach che esporta il petrolio russo. Molto vieta, io mi chiamo Zaffaire. Qualunque cosa vogliate, chiamatemi. Vi ho riservato il nostro tavolo migliore e ci sono delle belle ragazze che non vedono l'ora di conoscere. Grazie, Zaffaire. Possiamo verificare la tua carta? Come amo questo lavoro. Capisco il perché. Sembra un bordello di alta classe. Ma fare sesso è facoltativo. Visto che bello ambiente. Ti ha chiamato Tim. Sei già stato qui? Sotto copertura. Nel suo letto? Mi sbagliavo, sei un toro, non una tigre. Carichi a testa bassa, grazie cara. Fanciulle. Non è possibile. Ma sì, ti assicuro è così. Ma va. Questa è buona. Callan? Alle mie ore dodici, obri d'arba. Viva e vegeta. Guarda che sei un altro delle tue frottole. Stavolta te la faccio pagare, eh? E guarda come si diverte. Guarda che sei un altro delle tue frottole.